Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale, io sono Giannina, qui c'è Matteo, ciao! Oggi pubblico il video, oggi è sabato, però non so quando lo pubblicherò, penso presto. Comunque, a prescindere da questo, questo è un video sulla dieta, vi voglio dire che a oggi, sabato 22 aprile, ho perso 27 chili, troppo felice, troppo felice, troppo felice, troppo! Allora, inizio questo video nel darvi un po' di consigli e me ne sono scritti, perché poi la cavoccia con i chili si perdono anche i neuroni. E dopodiché vi lascerò a vedere il video, quello che ho mangiato durante la settimana e anche tre ricette molto molto buone e molto molto light, come sempre, senza olio, senza grassi, senza roba brutta e cattiva! Allora, adoro, sono troppo felice, vedete, guardate che braccia, guardate, 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 guardate che braccia, guardate, sono troppo felice! Allora, la prima regola è quella, quando ti metti a tavola, mangia senza il telefono, cioè, siccome il nostro cervello ha bisogno di circa 10-15 minuti per realizzare il fatto che tu ti stai nutriendo, se noi ci mettiamo, ci distraiamo con il telefono, con la tv, il nostro cervello non ha... Aspetta che Matteo sta a fare le mosse là! E sta! I bimbi belli! Che carita! Allora, dicevo, siccome il nostro cervello ha bisogno di questo tempo per realizzare che sta mangiando... Aspetta, mi metto così, non disturbo nessuno, anche se si vede il secchio dell'acqua per lavatera... Aspetta, quindi dovete mangiare senza distrazioni, così il nostro cervello capisce che stiamo mangiando e rimane più tempo sazio! Aspetta, la seconda regola è quella di bere acqua, tanta acqua, tanta acqua, dovete essere un fiume... Dovete, io ad esempio, bevo circa 4 di queste, mi metto una fetta di limone, vedete, e della mentuccia, così cambia un po' il sapore e non è acqua un po' antipatica... Poi, la terza regola, non c'è scampo per questa, dovete fare movimento per accelerare il metabolismo, non basta solo fare sport e mangiare come dei bufali, perché l'alimentazione è il 70% della nostra dieta... Mi è uscito l'herpes, lo so, so brutta, però non fa niente... Allora, un'altra regola, soprattutto nella prima settimana di dieta, prima, seconda, se riuscite, è quella di riempirti il tempo... È passata pure mamma, ora passa pure papà, vi faccio vedere tutta la famiglia, oggi siamo in allegria... Allora, dicevo, che dicevo? Ah, quello di riempirti il tempo, perché, soprattutto la prima settimana, se tu... Allora, io dico sempre che la dieta non deve essere presa come dieta, deve essere un cambiamento di vita, uno stile di vita... Quindi, di conseguenza, nella prima settimana è logico che tu stai pensando, oddio, la dieta, oddio, la dieta, oddio, come si mangia, oddio... Stai sempre pensando, pensi sempre a mangiare... Quindi, di conseguenza, tra i pasti, se ti occupi totalmente il tempo, riesci a distrarti dal pensiero del cibo... Un'altra regola, nel caso in cui hai la crisi dell'abbuffata, perché sicuramente succederà... A me non è successo, perché io sono troppo motivata, sono cazzuta, sono arrabbiata, devo arrivare al mio obiettivo... Allora, nel caso in cui vi succede che svuotate il frigo o svuotate l'armaglietto delle merendine... Qua abbiamo i gameplayer a go-go... Matteo gioca a la play? Anciarte... Anciarte... Andate a vedere anche i suoi video... Se a voi non vi piacciono, mandate ai vostri figli, ai vostri maschietti, a vedere anche i video di Matteo... E se nel caso avete la crisi dell'abbuffata... Ok, l'indomani non fate la cazzata di stare a digiuno o di mangiare un yogurt o solo un insalata... Continuate la dieta come se niente fosse... Perché il nostro corpo non può subire questi sbalzi di alimenti così... Ha bisogno di un equilibrio, quindi voi dovreste prendervi cura di voi... Ascoltandovi e soprattutto cercando di ripristinare la linea dell'alimentazione sana... Poi che altro dicevo... Non esagerare con la ginnastica... Cioè non è che... Mo se vai tutti i giorni a correre 10 km... Oh... Dimagrisci prima... Non è quello... E l'alimentazione è quella più importante... Un'altra cosa che non so se l'ho scritta ma ve lo dico uguale... Sfattate il mito che la sera non devi mangiare dopo le 6, dopo le 7... È una cazzata... Basta che durante la giornata... Durante l'arco della giornata... Rientrate nelle calorie che vi siete prefissati... Ho detto questa... Allora... Se nel caso, nei primi tempi non dimagrite oppure l'incontrario dimagrite subito... E poi dopo avete più tempo di plateau come si dice... Non mollate... Prima o poi il vostro corpo vi risponderà perché è matematico... Tu tot calorie introduci nel tuo organismo... Tot brucia... Tot elimini... Quindi è matematica... È logico così... Cioè se il tuo corpo ha bisogno di mille calorie... E tu ce ne dai 2000... È per dire una cifra così... È normale che ingrassi... Se invece ne dai meno di quello che c'ha bisogno... Dimagrisci... Un'altra cosa... Soprattutto alle femmine... E non solo... Anche ai maschietti... Cercate di non... Mettervi davanti allo specchio e dire sempre... Guarda come sono grasso... Guarda qua... Sono storto... C'ho una gamba più grossa... Quella è lunga... Sono alto... Sono magro... Sono storto... Sono... Cercate invece di valorizzare sempre i vostri punti... Forte... Cioè mettete in evidenza ciò che... A voi vi piace di più... Non so... Un sorriso... Un viso... Degli occhi... Che ne so... Col trucco... Oppure con un bel vestito... Anche voi maschietti con un bel abbigliamento... Mettete in risalto i vostri punti forti... E l'ultima regola... Che già ve l'ho detto... Non vivete per la dieta... Quindi se il sabato sera... Avete una cena... Uscite... Io sono uscita sempre... Ma al ristorante mi prendevo... Una bistecca insalata... Oppure verdure... Oppure... Ci sono modi per uscire... E non... Abbufarsi di... Monnezza... Adesso vi lascio al video... Vi mando un bacio... Non dimenticate di lasciare like... Di abbonarvi al nostro canale... E ci sentiamo al prossimo video... Ciao... Buongiorno... Iniziamo una nuova settimana di dieta... Qui abbiamo il tè... Il tè verde uso io... Qui due fette biscottate con... Integrali sempre... Io uso quello della Buitoni... Con un po' di granella di noci... Due fette di petto di tacchino... Quello di Eurospinal 0,01 grassi... Non dimenticate mai di bere tantissima acqua... Io per cambiare un po' il sapore... Così per non annoiarmi... Ci metto la mentuccia... E due fette di limone... Poi ne bevo circa tre di queste... Le cambio spesso... Cambio l'acqua diciamo... Ma le lascio durante la giornata... Qui per pranzo... Ho voluto depurarmi un po'... E mi sono fatta perché avevo fatto... Quel giorno ho fatto tanta palestra... E quindi per pranzo mi sono nutrita di solo proteine e un arancio... Ho messo un misurino di proteine di MyProtein... Che sono buonissime... Al gusto di cioccolato... Ho aggiunto l'acqua... Poi ho continuato naturalmente a bere tanta tantissima acqua... Io ho mangiato anche un arancio... Più tardi giustamente avevo fame... Allora ho preso due cetrioli e li ho tagliati così... E 10 mandorle... Anzi non 10 mandorle... Sono 8-10 grammi di mandorle... Per cena mi sono fatta una mega insalatona... Con un quarto di avocado... 60 grammi di salmone affumicato... E semi di chia sopra... E un po' di noci... Sempre a granella... Buonissimo ragazzi... Davvero buono 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 buono... Adoro... Il giorno dopo per colazione... Abbiamo il pancake di MyProtein... È già fatto... Tu aggiungi solo acqua... Oppure il latte... Io ho aggiunto solo l'acqua... Ho fatto mi sembra 40 grammi... Lo metto in una padella... Senza olio... Senza niente... Perché non si attacca ragazzi... Lo mettete lì... Fate così una specie di... Come si chiama? Di pancake... Dopo appena che fa le bolle... Le girate... Tipo una crepe volevo dire... Ecco appunto... Tipo una crepe... E la girate... Ed è squisita... Poi io ho messo... Su una parte un po' di Philadelphia... Cos'Emedecchia... Le altre due parti... Una con marmellata di fichi... Quella dolcificata con l'uva... E dall'altra parte di limone... Qui ho messo... Le bacche di Koji... Le mandorle... E dall'altra parte... Ho messo... Un quarto di avocado... E basta... Così è per fare anche delle foto per Instagram... Lo ho tutta... Però era figo mangiare cose diverse... In un pasto solo... Per pranzo... Torniamo alla nostra... Qui abbiamo una bella ricetta... Super light... 5... Questa è per 4 persone... 5... Come volete voi... Quindi... Ho usato... Avevo sti 5 zucchine... Salmone affumicato... Ricotta... E yogurt greco zero... Allora... Useremo 200 grammi di ricotta... 60 grammi di salmone affumicato... E 2 uova... Ma solo il rosso dell'uovo... Mischiamo la ricotta con l'uovo... E come si chiama... Il yogurt magro greco... Zero grassi... E mettiamo anche il salmone tagliato a cubettini... Piccoli 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 piccoli... E mischiamo tutto... Aggiustiamo di sale... Nel frattempo... Facciamo bollire... Le zucchine in acqua bollente... Io... Alla fine... Quando ho finito di cucinare... Ho calcolato le calorie... Ogni zucchina ripiena... Aveva 150 calorie... Quindi potete... Manca mangiarne due... Lo restate solo per 10 minuti... Per accelerare la cottura al forno... In una padella... Ho messo un quarto di cipolletta... Ho svuotato... Le zucchine dalla polpa... E tutta la polpa la andremo a ripassare in padella... Senza olio... Mi raccomando... Solo acqua... E cipolla... Mettete le spezie che vi piace... Appena pronto... Vedete... È diventata una cremina... Così... Per asciugare un po' l'acqua... Che poi se no si fa tutta una pappetta... Mischiamo tutto e riempiamo le zucchine... A me qui mi è rimasto di più... Perché avevo messo 330 grammi di ricotta... Ed era troppo... Quindi ho fatto delle polpettine... Poi vicino all'all... Le abbiamo mangiate così... Però con le dosi di 200 grammi di ricotta... 150 grammi di yogurt greco... Sempre a zero... Escono 5 di queste... Poi ho preso... Ma proprio una spolverazione... Colatina di pangrattato... Giusto per dare il colorito sopra... Vedete... Un poco poco poco... Senza esagerare... Perché... Sono altre calorie qui... Quindi... Non vogliamo esagerare... Potete aggiungere al composto... Anche del prezzemolo... Per dare ancora più sapore... Vedete... Ho fatto le polpettine... Con quello che è rimasto... Et voilà... Ah... L'ho messo al forno... Per 20 minuti... A 200 gradi... Ventilato... Et voilà... E questo è il piatto... È stato davvero buono... Buono... Veramente... Raga... Cioè... Stare a dieta e mangiare così... È fantastico... Veramente... Fantastico... Ho accompagnato con un po' di valeriana... Pomodori e deraf... Proprio buono... Buono... Qui... Vi volevo parlare di questa padella... Che l'ho comprata online... Vi lascerò nell'info box il link... Da dove l'ho comprata... Non è una collaborazione... È solo e semplicemente un acquisto fatto da me... È una padella che dicono che è fatta di rame... È sopra rivestita di ceramica... Mi è costata 19,90... E mi hanno dato anche il coperchio... E il coltellino molto tagliente... E l'unica pecca di questo acquisto è il trasporto... Che il trasporto costa 15 euro... Solo che al primo acquisto hai 5 euro di sconto... Però vabbè... Ci tenevo tanto perché voglio provare a cucinare meglio... Qui è un nuovo giorno... Mi sono svegliata con una fame da lupo... E ho preparato il mio solito tè verde... Con due fette di pane di segale... Di segale... Se una ho messo la marmellata di limoni... Quella bio di eurospin con le noci... E sull'altra avvocato, pomodoro e semi di chia... Perché contengono molto molto ferro... Un'altra ricetta per oggi... Avevo queste quattro melanzane e non sapevo cosa fare... Allora ho pensato di rifare... Perché se andate sul mio canale troverete la parmigiana ovunque... E quindi quattro melanzane... Questa mi è uscita una bella teglia... Mezza bottiglia di pomodoro... Prosciutto cotto... Cercate di prenderlo meno grasso possibile... Possibile... Yogurt greco sempre a 0,1 di grassi... Poi abbiamo il basilico sale... E l'albume di un uovo... Per amalgamarlo con lo yogurt... Per creare una besciamela più light possibile... Allora... In una padella ho schiacciato l'aglio... Lo mettiamo lì... Mettiamo circa mezza bottiglia di pomodoro... Questo così... Io mi fornisco da Eurospin perché i prezzi comunque sono bassi... La qualità devo dire che è cresciuta tantissimo... I prodotti sono molto molto buoni anche lì... Alcune cose non le compro lì... Le vado a comprare alla Conad e così via... Allora... Ho messo il pomodoro... Ho aggiunto l'acqua... E cociamo per mezz'ora... Mettiamo il sale... Condiamo a piacere... Il coperchio... Fuoco basso e via... Questo è lo yogurt... Sempre quello greco... L'ho condito con basilico prezzemolo e rosmarino... Intanto che stavo facendo le melanzane sulla piastra... Così prende il sapore... Ho messo anche un pochino di sale... E l'ho lasciato insaporire... Vedete qua già avevo fatto una parte delle melanzane... Sulla piastra semplicemente per eliminare l'acqua... Qui aggiungiamo il albume dell'uovo... Per cercare di legare un po' questo yogurt... Ho provato a creare la besciamella... Diciamo così... Ecco... E... Devo dire che non è una brutta idea... Ecco... Non sarà mai come la besciamella... Ma noi siamo a dieta e vogliamo essere belli, forti... Salute... E naturalmente con il tocco di classe l'ha dato il prosciuttino... Allora, questa è la teglia pirofilla... Ho preso il pomodoro... L'ho appoggiato sul... L'ho fatto uno strato sul fondo... E... Così diciamo... Si insaporiscono bene anche le melanzane da sotto... Così non sprechiamo l'ultimo strato... E... Ho cominciato ad agiare piano piano... Le melanzane... Trovate... Ma potete usare qualsiasi tipo di melanzane... Ma anche zucchine... Potete usare qualsiasi tipo di... Di verdure... Magari non patate... Perché comunque diventavano... Le patate hanno più... Troppi carboidrati... Possiamo una volta approfondire... Con la zucca... Oppure con le patate dolci americane... Anche se costano un botto qui... Qui da noi... E niente... Ho messo il primo strato di... Melanzane... Io adoro le melanzane... Infatti il mio canale... Prima si chiamava... Parmigiamo insieme... Adesso si chiama... Family Game... Perché... Giustamente... Devo dare spazio... Ai giovani... Quindi darò spazio... A mio figlio... Darò più spazio... A mio figlio... Che vuole fare gameplay... E quindi io da bravo mamma... Sarò vicino a lui... E lo aiuterò... E i miei video saranno... Soprattutto... Legati alla cucina... E alla dieta... Soprattutto... E al modo di mangiare sano... Allora... Ho... Sporcato... Si può dire così... I pomodori con... I pomodori... No... Le melanzane con il pomodoro... Con il sugo di pomodoro... Dopodiché... Aggiungiamo... Così... Io l'ho rotto... Perché... In una mano... Tenevo il telefono... E nell'altra... Non riuscivo... La prossima volta... Mi organizzerò meglio... A preparare il mio set cinematografico... Dei film... E ho rotto così... A pezzettini... Il prosciutto... Dopodiché... Ho aggiunto... La mia finta... Besciamela... Super... 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 Light... E... Ho messo... Come se fosse... A semplice... Besciamela... Possiamo... La prossima volta... Provare anche... Aggiungere un po' di mozzarella... Light... Anche se... Vedevo dire... Che è venuta... Davvero... Davvero... Una... Squisitezza... Perché... Le melanzane... Le ho tagliate... Ah... Mi raccomando... Tagliate le melanzane... Più alte... Circa... Un centimetro e mezzo... Uno... Uno e mezzo... Perché... Poi... Al forno... Si ammorbidiscono... E sono molto più buone... Al sapore... Quindi... Più alta la melanzana... Più sarà... Soffice... E... Cremosa... Diciamo così... Questa parmigiana... Poi continuiamo... Con il secondo strato... Sempre... Le melanzane... Sopra... Aggiungiamo... Poi... Il... Suco... Suco... Il sugo... Semplice... Semplice... Poi... Il... Ah... Ho usato... Mi sembra... Quattro fette di... Prosciutto... Poi... Il nostro yogurt... E io ho finito le melanzane... Perché avevo scelto la pirofila... Un po'... Larga... Però... Se scegliete una... Più... Diventa... Più alta... Diciamo... Più stretta... Diventa più alta... E voilà... Questa è la mia parmigiana... Era una bomba... Era una bomba... Qui... Un nuovo giorno... Una tazza di tè verde... Con una fetta di pane di segale... Con la Philadelphia Light... Semi di chia... E... Le noci... Due noci... Mi raccomando... Le quantità... Qui abbiamo una nuova ricetta... Quinoa... Con petto di pollo... Pomodori... Aglio... E un ingrediente... Secreto... Che vedrete... Tra un pochino... Che mi è venuto... In mente... Da mettere... Dopo... Useremo... La nostra padella... Che dicono... Che è miracolosa... E... Ci proviamo... Ah... Ho usato... 40 grammi... Di quinoa... Ho messo... Assolutamente... Tutti gli ingredienti... Qui dentro... Meno... Quello secreto... L'aglio... Quinoa... Pomodori... E... Il petto di pollo... Tagliato a cubetti... E voilà... Eccolo qui... Il mio ingrediente segreto... E' una fetta di ananas... Raga... Questo piatto... E' davvero... Una squisitezza... Ma lo potete mangiare... Cioè... La può mangiare... Piunque... Non è solo da dieta... E' proprio... E' proprio buono... E' proprio davvero buono... Buono... Mi è piaciuto tanto... Solo a parlare... Mi viene l'acquolina... In bocca... Qui per merenda... Mi sono fatta... Due fette di pane... Di fette biscottate... Sempre integrale... Uno con marmallata... E una noce... E l'altro con burro di aracca...